Tre giorni fa il presidente della regione Abruzzo aveva convocato una conferenza stampa per rendicontare i primi 100 giorni di governo, presentando una brochure di 41 pagine. Il centrodestra oggi presenta, punto per punto, le osservazioni alle compiute di D'Alfonso. Regione, lavoro, sanità, reperimento, fondi, infrastrutture. Tutto passato sotto la lente, da chi quelle poltrone le aveva occupate per gli ultimi 5 anni di governo. L'ex presidente Chiodi e gli ex assessori Mauro Febbo, Mauro di Dalmazio, Paolo Gatti, Lorenzo Sospiri, Giorgio D'Ignazio sono tutti concordi su un punto. La regione Veloce di D'Alfonso finora ha prodotto solo la nomina di un manager della ASL, quella di un sottosegretario alla presidenza della regione e un ticket sanitario per i disabili. Nei 100 giorni non è che si può cambiare il mondo. Certamente non sono state cambiate le cose per cui ce l'hanno contestato. C'è continuità nella politica sanitaria, mi sembra. Hanno fatto tante battaglie dall'opposizione, non stanno ratificando nulla di ciò che abbiamo fatto. È un'implicita ammissione che quello che abbiamo fatto è una cosa positiva. Ma la realtà è che c'è una forte narrazione ma che non corrisponde a una realtà fattuale. Dopo 100 giorni uno non può cambiare il mondo, però non può nemmeno far credere che l'ha cambiato. Perché se si spacciano per rivoluzioni quelle che sono invece norme per la nomina di un direttore generale che prima la regione non aveva o per l'introduzione di una nuova figura come il sottosegretario alla presidenza e quindi ulteriori incarichi, ulteriori poltrone, ma non possono essere far passati per una riforma della pubblica amministrazione. Mauro Febo contesta scarsa attenzione al settore agricoltura che vanta invece ben 1.300.000 euro per creare lavoro. Paolo Gatti rivolge la sua attenzione alle politiche del lavoro, quello che rappresenta una priorità per l'intera regione. A 100 giorni dall'insediamento continua a ripetere impossibile fare opposizione. Ecco perché. Perché noi ai 100 giorni eravamo impegnati con il terremoto. C'è un abruzzo in continuità con il passato, solo che è una continuità, la moviola, molto più lento. Naturalmente noi continuiamo ad aspettare, facciamo il tifo perché qualcosa accada sulle politiche del lavoro, di sviluppo, sulle grandi emergenze economiche e sociali nella nostra regione. Per adesso non sappiamo che dire, nel senso che come ho già detto in precedenza, opporsi a nulla è abbastanza difficile. Noi abbiamo fatto delle proposte, su queste non abbiamo ancora risposta, quindi siamo così. Mordi Dalmazio sintetizza brochure, annunci e presenza mediatica in una sola frase. Sotto il vestito nulla, nel senso che c'è grande slancio propagandistico, stile campagna elettorale, ma in realtà non ci sono provvedimenti che incidano. C'è il tentativo, con un maquillage estetico, di appropriarsi di azioni del passato. E questo è un bene, perché significa portare avanti la programmazione, ma bisogna aggiungerci qualcosa. Mi riferisco ad esempio a Bike to Costa, la ciclopedonalizzazione, i progetti via vai. E poi ci sono gli arresti complessivi su una serie di politiche. I fondi strutturali per i rifiuti, i fondi destinati a Spain per l'erosione, che non si sa che fine stiano facendo.